Musica Quattro No tre Perché poi ne aveva due No Vabbè 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 Nero 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 Vai E due Vai E quattro euro Nero Un punto 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 Noi troppo forte perfetto questa volta la donna riprende 3 3 3 6 8 8 a 6 8 a 6 8 a 6 8 a 6 ora sboccio io 9 a a